Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato che l'ISIS è rimasto senza leader dopo un raid statunitense durante il quale Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi si è fatto esplodere insieme con tre membri della sua famiglia. Sono senza leader oggi e questo è un duro colpo. Questo non è qualcosa che crediamo l'ISIS sarà in grado di superare molto rapidamente e facilmente. Mentre si infligge un colpo significativo allo Stato islamico, Kirby aggiunge che l'ISIS resta comunque una minaccia e nessuno qui ha fatto il giro d'onore per festeggiare la vittoria. Il portavoce del Pentagono aggiunge. Voglio ricordare che sono ancora una minaccia e nessuno ha fatto il giro d'onore qui. Le forze speciali statunitensi, una cinquantina di uomini, sono piombate nel nascondiglio siriano in un raid notturno in elicottero incredibilmente impegnativo secondo il presidente americano Joe Biden che dalla Roosevelt Room della Casa Bianca ha spiegato che all'interno della casa c'erano famiglie, compresi bambini. E mentre le azioni codarde di Haji Abudullah, noto anche come Al-Qurashi, e di un piccolo numero dei suoi seguaci hanno provocato la morte, la tragica morte di almeno tre civili innocenti, gli sforzi delle nostre forze sono riusciti a proteggere più di dieci donne, bambini e neonati. Ma l'Isis resta una minaccia che vuole ricostituire la sua forza, vuole continuare ad attaccare, uccidere, mutilare e terrorizzare, ha spiegato Kirby.